L'uso dei siglati è sicuramente uno perché utilizziamo la memoria semantica a lungo termine che riduce il carico della memoria cinestesica che invece viene indotta dal pentagramma, però per usare siglati sul lungo periodo bisogna comporre repertorio in modo che sia siglabile a bicordi, quindi repertorio apposta. Ai siglati si può poi attribuire dei pattern ritmici che però non vengono scritti, il bambino tipo do 5 potrebbe diventare do sol sol do sol sol do la la do la la, quindi si dà un pattern ritmico che poi può essere applicato a tutti i bicordi che però non è necessario che venga scritto. E quindi il bambino non sovraccarica l'aspetto di lettura e di memoria visiva e lascia quindi spazio attraverso l'uso della memoria semantica alla concentrazione per esempio di rappresentazione mentale del beat. Però ovviamente questo vuol dire mettersi a scrivere perché non possiamo siglare brani già fatti e trasformarli in bicordi che abbiano un senso a livello motorio, che siano congruenti con la teoria musicale che non possiamo stravolgere continuamente, quindi devono essere brani monotonalità con un aspetto motorio magari legato alle cinque dita ma che siano già articolati da un punto di vista melodico-ritmico in maniera che diano soddisfazione ai ragazzi. Io ho diciamo creato proprio un po' una scuola di pensiero diciamo e questo è un metodo proprio pianistico che ho chiamato circolpiano che è basato su questi concetti. Quindi state attenti che l'apprendimento per imitazione nei dislessici non è così efficace rispetto ai pari mentre lo studio by doing per tentativi è equiparabile. Quindi non interrompete continuamente l'allievo lasciate che si faccia come dire i suoi percorsi. Questa è una regola che utilizzano anche tanti docenti della scuola primaria e secondaria davanti al ragazzino dislessico. Non impongono tanto una strategia di studio ma lasciano che il bambino ne trovi uno da sola magari con l'aiuto ovviamente dell'insegnante ma partendo ovviamente dall'osservazione di quali sono le strategie più naturali per il bambino che sono magari diverse da quelli che hanno i compagni pari. Però state attenti perché è vero lasciarlo lavorare per prove d'errori però avendo anche una forte memoria cinestesica i bambini di SA imparano facilmente i loro stessi errori, l'abbiamo già detto. Quindi l'unico modo che abbiamo è di creare degli esercizi propedeutici o dei repertori compensativi, quindi scriverli apposta, dove si minimizza la quantità di errore diciamo perché si facilitano i repertori e si scrivono appositamente in maniera che abbiano dei prerequisiti che minimizzino l'errore in maniera che il bambino possa lavorare per prove d'errori in cost learning by doing senza però continuare ad apprendere errori che produce in fase di lettura. Quindi costruzione dei requisiti ma anche compiti estremamente facilitati con repertori scritti apposta. Strumenti compensativi, abbiamo detto non solo in propedeutica, ma prima dello studio lo strumento e su ogni brano ad ogni lezione, quindi l'uso della voce, l'uso delle percussioni, l'uso di strumenti che siano facilitanti in termini di percorribilità e che siano propedeutici all'uso di strumenti più complessi, io metto l'oxilofono perché nel mio strumento questo è molto molto utile perché toglie i movimenti fini delle dita con l'uso delle bacchette, però l'aspetto visivo e di localizzazione dei suoni è identico. Ovviamente per i vostri strumenti ognuno deve trovare delle strategie proprie. Quindi abbiamo bisogno di sviluppare la coordinazione motoria e strumentale e l'associazione spaziale, quindi la localizzazione e la direzionalità dei suoni sullo strumento usando degli strumenti diciamo propedeutici compensativi anche quando il ragazzo è già grande e suona già lo strumento principale. Stare attenti a creare i prerequisiti o comunque a testare che ci siano, quindi l'importante è che ci sia attività di notazione non convenzionale che inducano queste associazioni, altezza dei suoni, spazio, stimoli grafici facilitanti e propedeutici. Utilizzare dei supporti anche semplici che possono permetterci di ingrandire la scrittura, di avere contenuti facilmente modificabili quindi per esempio usando pennarelli, lavagne per poter rendere cicliche battute e cellule ritmiche. Io qui ho messo questa foto anche perché per esempio nel pianoforte l'aspetto attentivo se vedo 88 tasti quando in realtà ne devo usare solo due ottave, questo è distogliente quindi a volte basta coprire una parte dello strumento per focalizzare l'attenzione nella zona rilevante che è un po' diciamo lo stesso processo che utilizzo sullo spartito. Sempre per non sovraccaricare il sistema ricordatevi che inibire per il dislessico è difficile. Quindi a volte siamo noi a eliminare informazioni al posto loro. La costruzione di repertori ad hoc in cui la lettura sia facilitata, in cui vengano utilizzati diversi tipi di memoria per non sovraccaricare un sistema solo. Quindi l'uso della memoria semantica, quindi io sono favorevole allo sviluppo di competenze armoniche che riguardano diciamo la grammatica musicale e quindi che portano all'accesso ad una via di codifica più lessicale e più semantica e anche l'attenzione allo sviluppo di automatismi procedurali ripetendo ciclicamente battute e cellule, pattern, quindi l'uso di pattern. Io poi lascio sempre alcuni gradi di libertà, quindi lasciando per esempio prendo cellule melodiche che però poi lascio in qualche modo variare all'allievo ma solo dopo che la sincronizzazione sul beat è avvenuta. Adesso vi faccio poi qualche esempio. Diteggiature e estensioni di ottava, brani monotonali. Per quanto riguarda gli strumenti compensativi, soprattutto con i ragazzi più grandi, vi volevo proporre anche questo. Anche se so che è una cosa che non tutti hanno voglia diciamo di utilizzare perché prevede anche qualche minima competenza non dico informatica ma di bisogna essere un minimo smanettoni. Per esempio io mi faccio io i siti dell'associazione eccetera, so usare wordpress eccetera quindi per me è stato facile accedere poi al mondo delle piattaforme e-learning. Considerate che alle scuole medie ormai si usano le piattaforme e-learning che ovviamente è la scuola a caricare sui siti della scuola oppure sono applicazioni già fatte però gli insegnanti sanno fare login alle piattaforme, caricare i materiali e alle scuole medie ormai si utilizzano. Quindi i ragazzini hanno un login alla piattaforma, entrano e trovano i materiali, i video, insomma ciò che l'insegnante desidera condividere con gli allievi in aree diciamo dedicate nell'e-learning. Io ho caricato qui un video che vi mostra l'uso della mia piattaforma e-learning che fa parte della mia associazione che secondo me è un buon strumento da utilizzare. Nella piattaforma l'ho caricata sul sito della nostra associazione che si chiama il musicatorio quindi uno normalmente dal sito o da Google entra e si trova una finestra qui con il contenuto della piattaforma in questo caso ci sono dei corsi di pianoforte, c'è un'area che ho chiamato materiali dove carico... nello specifico in questo periodo sto usando la piattaforma per fare dei corsi di pianoforte jazz quindi per esempio nei materiali ho caricato spartiti jazz, basi eccetera e poi c'è un corso, questo è un corso per gli allievi del musicatorio che fanno pianoforte moderno e jazz quindi cliccando sul corso è possibile accedere. La piattaforma dice che bisogna autenticarsi e a quel punto si fa il login il login si fa ovviamente con delle credenziali che io do a ciascun allievo io ovviamente entro con le mie una volta che ci si è autenticati è possibile vedere le aree di apprendimento del corso quindi siamo all'interno di questo corso di pianoforte jazz è molto bella la piattaforma perché ha diverse possibilità per esempio io ho creato un'area di forum didattico dove è possibile mettere... è un forum quindi tutti gli iscritti possono scriversi posso mettere dei link a cose che trovo interessanti qua per esempio ho messo un link a un libro di teoria Armonia Moderna che trovo molto utile e col link si va direttamente al negozio online dove è possibile acquistarlo io ho scelto libreria universitaria ma poteva essere Amazon è possibile creare anche dei quiz io per esempio qui siccome questo è un corso a distanza cioè ho anche allievi che iniziano a studiare a distanza per poi venire a lezioni in presenza solo dopo aver seguito un po' di lezioni ho creato un sondaggio, un quiz semplicemente per sapere quali sono le loro conoscenze pregresse quindi cliccando sul sondaggio è possibile adesso io ho già iniziato un tentativo ma partiamo dall'inizio è possibile rispondere alle domande per esempio questo è proprio un'intervista da quanti anni suona il pianoforte ed è possibile compilare se hanno già frequentato corsi di musica questo perché io appunto voglio fare un sondaggio ma è possibile anche inserire materiali con risposte a crocette e la compilazione dei questionari arriva direttamente sulla piattaforma si possono anche predisporre delle autovalutazioni quindi con le risposte in automatico che l'allievo ha torniamo al corso e poi è possibile dividere il corso per lezioni queste sono le lezioni ogni lezione può essere correlata di slide, video, pdf faccio un esempio questo qui sono degli esercizi che io chiamo circo il piano per esempio ho inserito un file dove spiego come utilizzare gli esercizi e poi una pagina proprio di esercizi in questo caso ci sono dei video che registro a casa che carico su youtube e poi metto il link in piattaforma quindi praticamente ci sono io che ripropongo esattamente la lezione fatta in presenza solo che via video in maniera che sia possibile per i ragazzi fermarsi, osservare esattamente dove metto le mani e quando parlo di determinati punti del brano è molto facile montando il video anche inserire lo spartito evidenziando proprio le battute di riferimento per esempio in questo caso stavo lavorando su questa e ho selezionato solo quella battuta per far vedere la diteggiatura per esempio ed è anche possibile inserire dei pdf da scaricare quindi c'è il video su questo brano sono esercizi sulla scala blues in questo caso e il pdf che normalmente io con gli allievi in presenza creo in classe insieme all'allievo poi invece di lasciargli semplicemente il pdf lo carico in piattaforma scaricabile ovviamente con il video di dimostrazione si possono anche inserire delle basi questa è una base mp3 su cui fare l'esercizio che tra l'altro sono basi che faccio con un'applicazione che tutti conoscete almeno i giottisti qui presenti conoscono che è il real pro è possibile poi scaricare l'mp3 della base e caricarlo sulla piattaforma insomma via dicendo questo potrebbe essere una lezione ci sono miliardi di altre possibilità di uso della piattaforma ma non sto adesso entrando nel dettaglio però è un diciamo un mezzo molto interessante soprattutto con i ragazzi un po' più grandi per esempio nell'età delle medie o delle superiori perché loro sono già abituati a smanettare col computer e questo può portare la lezione a casa loro la possono rivedere possono rallentare si possono inserire link soprattutto in corsi di musica dove i materiali sono tanti perché ci sono spartiti ma anche ascolti io la trovo molto utile chiaro richiede del tempo perché è semplice da usare ma comunque bisogna un po' imparare e poi bisogna anche riempirla di materiali quindi è sicuramente uno sforzo è anche vero che io per esempio ho alcuni esercizi che sono più o meno sempre simili e che assegno a diversi allievi una volta che io organizzo la lezione poi la posso caricare o meno sulla piattaforma a seconda che serva o meno agli allievi in quel preciso istante quindi ho un repertore di esercizi di cui ho già i video che negli anni mi sono costruita quindi è un processo un po' lento ma poi se ne vedono i risultati grazie a tutti